L'ernia del disco lombare L'ernia del disco lombare è una patologia determinata dalla rottura del disco intervertebrale, soprattutto della sua parte esterna, con la fuoriuscita del nucleo polposo che è la parte interna del disco stesso. Questo nucleo polposo, toccando le strutture neurologiche viciniori, determina la tipica sintomatologia dell'ernia del disco lombare. La sintomatologia consiste normalmente in un dolore nella zona lombare che irradia agli arti, destro o sinistro, con una sintomatologia tipicamente conosciuta con il nome di sciatica. L'ernia del disco lombare è presente praticamente in tutte le fasce di età, può colpire qualsiasi tipo di paziente, sesso, tipo di lavoro, eccetera. Esistono però dei fattori predisponenti come l'obesità, o chi pratica sport pesanti o chi pratica un lavoro più pesante. Ma in generale l'ernia del disco lombare non presenta una predisposizione specifica. Chiunque può essere colpito da questo tipo di patologia.